Domani oltre 4 milioni di siciliani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della regione e la nuova assemblea regionale siciliana. Nuova operazione a Siracusa contro il traffico di gasolio tra Libia e Italia. Oggi si celebra la giornata dell'unità nazionale e festa delle forze armate. Anche a Palermo celebrazioni, manifestazioni e eventi. Benvenuti per una nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 4 novembre. Diamo lettura della prima notizia. Domani oltre 4 milioni di siciliani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della regione e la nuova assemblea regionale siciliana. Cinque i candidati governatore. Si vota dalle ore 8 alle ore 22. Lo spoglio sarà lunedì 6 novembre. Sono 4.661.123 siciliani chiamati domani alle urne per eleggere il nuovo presidente della regione e la nuova assemblea regionale siciliana, composta non più da 90, ma da 70 deputati. Si voterà nella sola giornata di domani. I seggi apriranno alle 8 per chiudere alle 22. Lo spoglio, contrariamente a quanto avviene in altre elezioni, non avverrà subito dopo la chiusura dei seggi. Le urne verranno sigillate, così come gli stessi seggi, per essere riaperti alle 8 di lunedì 6, quando inizieranno le operazioni di spoglio. Il corpo elettorale è diminuito rispetto alle regionali del 2012. Gli aventi diritto al voto quest'anno sono quasi 20.000 in meno. Nel 2012 votò il 66,68% degli aventi diritto al voto e Rosario Crocetta fu eletto con il 30,5 pari a 617.073 voti. In pratica, per la prima volta, un presidente della regione fu dichiarato eletto con circa un quarto del suffraggio generale dei siciliani. Nello Musumeci ottenne 521.022 voti, pari al 25,7%, e Giancarlo Cancelleri si fermò a 368.006 voti, pari al 18,20%. Entrambi adesso ci riprovano con aspettative ben diverse. A sfidare quindi Musumeci e Cancelleri, l'esponente del centro-sinistra, Fabrizio Micari, quello della sinistra, Claudio Favo, e il candidato indipendentista, Roberto La Rosa. Ogni candidato presidente, se eletto, porta con sé sei deputati che costituiscono il premio di maggioranza indicati nel listino regionale. Viene eletto anche il primo dei candidati presidente sconfitti. Sul fronte della composizione dell'Assemblea, otto sono gli eletti fra listino e presidente sconfitto, mentre 62 saranno scelti attraverso i voti delle liste provinciali che avranno superato lo sbarramento del 5%. In sintesi, la nuova Assemblea regionale siciliana vedrà 16 deputati eletti nel Palermitano contro i 20 che attualmente siedono in aula, 13 nel Catanese contro gli attuali 17, 8 nel Messinese erano 11, 6 nel Collegio di Agrigento contro i 7 di oggi, 5 nel Siracusano ed in provincia di Trapani erano rispettivamente 6 e 7, 4 nell'area ragusana contro i 5 dell'attuale legislatura, 3 nel Nisseno e 2 ad Enna, rispettivamente 4 e 3 attuali. In questa analisi, sviluppata dall'Ufficio elettorale della Regione, sono 4 fra i 62 seggi che dovranno essere assegnati con i migliori resti e che vengono individuati nei collegi di Agrigento, Palermo, Ragusa e Siracusa. In tema di affluenza alle urne si teme un risultato peggiore rispetto a quello di 5 anni fa. Nuova operazione a Siracusa contro il traffico di gasolio tra Libia e Italia. La Guardia di Finanza ha intercettato a largo della riserva di Vendicari una nave che trasportava 100.000 kg di carburante di contrabbando. Nuova operazione contro il traffico di gasolio tra la Libia e l'Italia condotta in Sicilia. Nella sera dello scorso 26 ottobre, i militari della Guardia di Finanza di Siracusa hanno individuato la motonave Grain M, battente e bandiera del Togo, nello specchio di mare antistante alla riserva naturale protetta di Vendicari. Le unità navali delle Fiamme Gialle hanno intercettato l'unità in acque territoriali, con a bordo 5 membri di equipaggio di nazionalità indonesiana. Il comandante non era stato in grado di esibire il manifesto di carico, un ingente quantitativo di carburante, privo di documentazione che attestasse la provenienza del prodotto. I finanzieri della compagnia di Siracusa, coordinati dal sostituto procuratore Vincenzo Nitti, hanno così scortato la motonave al porto grande di Siracusa per la visita doganale. All'interno, stipato in tre cisterne convenzionali, posizionate nella zona maestra della motonave e all'interno di una grossa cisterna, ricavata artigianalmente nella zona di Sentina, sono stati scoperti 100.000 kg di carburante, trovati anche 11 kg di tabacchi lavorati esteri e 31.000 euro circa, considerato provento delle illecite attività di contrabbando di oli minerali. Il comandante è stato sottoposto a fermo per contrabbando di oli minerali e di tabacchi lavorati esteri, nonché riciclaggio. I quattro componenti dell'equipaggio sono stati invece denunciati per favoreggiamento personale. Il procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, ha disposto ulteriori indagini per individuare i canali di approvvigionamento del prodotto di contrabbando e di destinatari finali. Tre settimane fa, un altro maxitraffico di gasolio tra la Libia e l'Italia era stato scoperto dalla procura di Catania che aveva arrestato ben 9 persone. Oggi si celebra la giornata dell'unità nazionale e festa delle forze armate. Anche a Palermo celebrazioni, manifestazioni e eventi che hanno come protagonista le forze armate in strada a contatto con la gente. È una giornata significativa per tutta la nostra comunità. È un momento in cui risaldiamo i vincoli che ci sono fra l'esercito e le forze armate e il suo popolo. Il nostro è un lavoro al servizio della comunità e al servizio dei nostri concittadini. E in questa giornata viviamo una giornata di festa tutti insieme affinché tutti i nostri cittadini possano anche vedere quelli che sono i mezzi e i materiali e le capacità che sono a loro disposizione da parte delle nostre forze armate. Tanti militari impegnati in missioni all'estero? Sì, sono impegnati in missioni all'estero, sono impegnati a favore della comunità nazionale in luoghi che sono stati colpiti dal terremoto o laddove ci siano delle esigenze dove le forze armate hanno le risorse per poter intervenire e soccorrere o aiutare comunque la comunità nazionale. È il nostro lavoro e siamo fieri ed orgogliosi di poterlo fare. Le infermiere volontarie della Croce Rossa sono ausiliarie delle forze armate e questo giustifica il motivo per cui oggi sono presenti con un loro stand unitamente a tutte le forze armate che ricordano il 4 novembre a Palermo. Già in occasione della prima guerra mondiale le infermiere volontarie hanno prestato assistenza sanitaria ai militari dell'esercito italiano e sono state impegnate al fronte in trincea. Da lì una serie di impieghi in emergenza ma soprattutto quello che è importante è la presenza quotidiana accanto ai vulnerabili e ovunque se ne faccia richiesta. Una giornata significativa che lega i cittadini alle forze armate. Conferma il forte rapporto che esiste tra la comunità cittadina e i cittadini che in divisa, in uniforme servono l'Italia, missioni di pace, la nostra vita in passato difendendo la nostra Italia ed è importante anche verificare questa dimensione di rapporto con i cittadini per cui c'è questa grande integrazione tra le forze armate e la scuola, le forze armate e le comunità di quartiere. Credo che sia questo un momento nel quale in qualche misura si fa il bilancio per ripetere no, no, no alla guerra e anche al tempo stesso per esprimere apprezzamento ai cittadini in uniforme che danno un contributo a costruire la comunità nazionale come comunità di diversi e di uguali e la comunità palermitana come comunità di diversi e di uguali. Forze armate che sono impegnate in città ultimamente anche per la sicurezza. Forze armate che sono impegnate in città per l'operazione che in tutta Italia si fa di strade sicure e l'MCM, quell'esercitazione che abbiamo visto fare dai militari senza armi sono proprio la scelta di addestrare i militari ad intervenire senza uso delle armi essendo l'uso delle armi soprattutto in condizioni particolarmente piene di cittadini e cittadine certamente pericolose. Anche a Villa Bate celebrata la festa delle forze armate. Villa Bate oggi ricorda i suoi caduti, sembrerebbe strano che noi lo stiamo ricordando il 3 novembre e non il 4 novembre ma in effetti la data non è sbagliata perché il 3 novembre è la data in cui è stato firmato l'armistizio di Villa Giusti e il 4 novembre è la data in cui è stato pubblicato. Il 4 novembre segna appunto la fine della seconda guerra mondiale, 4 novembre 1918. Una guerra alquanto combattuta, l'Italia faceva parte di uno schieramento, la cosiddetta tripicentese costituita da Gran Bretagna, Francia e Russia e dall'altro lato c'era l'impero austro, un carico che era sceso in Italia da dominatore. Dice il generale Diaz che questi erano scesi dai dominatori ma se ne stavano risalendo le valli con le pive nel sacco. Per dire che i nostri soldati che hanno fatto una guerra sanguinosa durata ben tre anni quasi, però quella più sanguinosa, l'ultima delle battaglie fu la battaglia di Vittorio Veneto dove l'Italia riuscì vincitore e dopo appunto si è avuto l'armistizio firmato a Villa Giusti il 3 novembre del 1918. Come avete potuto notare questa festa che noi italiani sentiamo nostra anche se non è rosso nel calendario va sempre più, non si sa perché, perdendo di forza, di importanza, noi notiamo che le persone che partecipano sono sempre meno e soprattutto quelli che mancano sono i giovani, quelli che dovrebbero portare avanti il concetto di patria, il concetto di una nazione abbastanza forte che è stata resa forte dal sacrificio di tutti questi giovani o giovanissimi che sono morti sul quarzo durante appunto questa campagna sanguinosa della seconda guerra mondiale. Noi ogni anno, anche se siamo pochi, continueremo sempre a ricordarla perché la ricordiamo a noi stessi e a tutta la nostra cittadinanza. Aumentano gli incidenti stradali a Palermo. Nel 2016 i decessi balzano al 40% in più. L'Ufficio di Statistica del Comune ha diffuso i dati relativi agli scontri in strada che hanno provocato lesioni a persone. Incidenti stradali in preoccupante crescita a Palermo. Nel 2016 ce ne sono stati 2.256 con lesioni a persone che hanno provocato 25 morti e 3.136 i feriti. Numeri alti soprattutto se confrontati a quelli del 2015. L'incremento dei sinistri è stato del 7,2%, quello dei decessi del 38,9%. I dati sono stati resi noti dall'Ufficio di Statistica del Comune che ha realizzato un fascicolo dedicato all'analisi degli incidenti stradali a Palermo nel 2016. Dall'analisi dei dati, spiega il responsabile Studi e ricerche statistiche del Comune, Girolamo Danneo, emerge un aumento rispetto al 2015 degli incidenti stradali più 7,2%, dei feriti più 12,5% e soprattutto dei decessi, passati da 18 a 25 con un più 38,9%. Lo scorso anno si era invece registrata una diminuzione dei decessi del 25%. I dati mettono in luce un andamento meno favorevole rispetto alla media nazionale che ha registrato un leggero incremento degli incidenti più 0,7% e dei feriti più 0,9%, mentre i decessi sono diminuiti meno 4,2%. Nel 2016, si legge nel report del Comune, nella maggior parte delle grandi città italiane il tasso di incidentalità ha fatto registrare una tendenza a rialzo e gli incrementi maggiori si sono registrati a Messina con più 10,1% e Palermo con più 7,6%. Sempre nel 2016 a Palermo si sono registrati 465,2 feriti ogni 100.000 abitanti, anche in questo caso valore più elevato della media nazionale, ma più basso della maggior parte delle città italiane. Le città con il maggior numero di feriti per 100.000 abitanti sono Milano con un tasso quasi doppio rispetto a Palermo, 882,7%, Genova 877,8% e Firenze con 831,8%. Palermo è la città in cui nel 2016 è maggiormente aumentato il numero dei feriti ogni 100.000 abitanti più 12,9%, mentre Trieste è la città in cui si è registrata la diminuzione più forte, meno 9%. Infine, il tasso di mortalità degli incidenti stradali è risultato a Palermo nel 2016 pari a 3,7 morti ogni 100.000 abitanti, valore sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale 5,4%, anche se in forte aumento rispetto al 2015 con 2,7%. La città con il tasso di mortalità più elevato è Catania con 6,4 morti ogni 100.000 abitanti, segue Messina con 5,5% e Verona con 5,4%. Le città con il tasso più basso sono invece Venezia con 2,7%, Bari con 2,5% e Genova con 2,2%. L'ASP di Palermo porta nuovamente nelle piazze il camper delle vaccinazioni. In concomitanza con l'avvio della campagna antinfluenzale sono previste quattro tappe dell'ambulatorio itinerante. Prestazioni gratuite per anziani e soggetti a rischio. L'ASP di Palermo porta nuovamente nelle piazze il camper delle vaccinazioni. Dopo la positiva esperienza dello scorso mese di settembre, realizzata per venire incontro alle esigenze di iscrizione a scuola dei ragazzi, adesso l'azienda sanitaria provinciale, in concomitanza con l'arrivo della campagna antinfluenzale, ha previsto quattro nuove tappe dell'ambulatorio itinerante. Il camper con a bordo i medici del Dipartimento di Prevenzione sarà lunedì 13 novembre all'interno dell'area parcheggio del Presidio Guadagna, martedì 14 a Partinico, davanti l'ospedale, venerdì 17 a Piazza Politeama in occasione dell'Influ Day e il 21 novembre in Piazza Guilamo II a Monreale. Questa volta ci rivolgiamo principalmente agli anziani, ha detto il commissario dell'ASP di Palermo Antonino Candela. Saremo noi che andremo incontro alle loro esigenze, portando i medici nei luoghi di aggregazione. Sono state previste per il momento quattro tappe, ma stiamo valutando se ampliare il calendario. L'iniziativa è stata organizzata con l'avvio da lunedì prossimo a Palermo e provincia della campagna antinfluenzale. Per usufruire del servizio è sufficiente accedere ai centri di vaccinazione dell'azienda sanitaria o ai camper muniti di un documento di riconoscimento. La vaccinazione è gratuita, oltre che per tutte le persone di età superiore a 63 anni, anche per i soggetti in età pediatrica o adulta affetti da malattie croniche a cariche dell'apparato respiratorio, circolatorio, uropoietico, da diabete, da altre malattie del metabolismo, da sindromi da malassorbimento intestinale. Queste categorie di utenti, considerati soggetti a rischio, devono esclusivamente esibire il documento o il numero di esenzione ticket per patologia. In mancanza può essere prodotta la certificazione della patologia esistente redatta dal medico curante. La vaccinazione antinfluenzale è inoltre gratuita per bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricoverati presso strutture per lungo degenti, medici e personale sanitario di assistenza, familiari a contatto con soggetti ad alto rischio, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, personale a contatto con animali, per motivi di lavoro, oltre che per tutti i bambini che frequentano le comunità. La vaccinazione antinfluenzale è anche effettuata dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che aderiscono all'apposito programma promosso dall'assessorato regionale alla salute e che pertanto provvederanno alla vaccinazione dei propri assistiti. Per favorire l'aumento delle coperture vaccinali, ha spiegato Nicola Casuccio, responsabile del servizio di epidemiologia dell'Asp, l'azienda ha provveduto anche quest'anno alla domiciliazione del vaccino direttamente presso gli ambulatori dei medici di Palermo che ne fanno preventiva richiesta. Si ricorda che nella nostra regione, ha aggiunto Casuccio, l'epidemia influenzale ha inizio tra la fine di dicembre e i primi giorni di gennaio. Le malattie da raffreddamento che si verificano prima di questo periodo non sono attribuibili, contrariamente a quanto spesso ritenuto dalla maggior parte della popolazione, al virus influenzale. Pertanto la vaccinazione può essere praticata efficacemente sia a novembre che a dicembre. Da Vilabate a lontano Kazakistan, le pizze del vilabatese Lorenzo Aiello non hanno confini. Vediamo perché. La taglia è per sottolineare l'eccellenza di Lorenzo Aiello nel suo ambito. A Lorenzo Aiello, ambasciatore dell'arte della pizza e della fucina siciliana nel mondo. Costino e affetto, l'amministrazione comunale. Che dire, questa esperienza è stata bellissima perché in Europa già io ce l'ho stato, ma adesso con Lorenzo Aiello abbiamo superato l'Europa, siamo andati in paesi che non conoscevamo neanche sulla cartina geografica, non mi vergogno a dirlo. Siamo stati ad Almaty, è una città bellissima, non è la capitale del Kazakistan ma è una bella città. Ci sono dei mega centri commerciali. Che dire, il progetto è cominciato con Lorenzo per la pizza e con me per la pasticceria e la gelateria. Devo dire che non è un progetto che è finito lì perché siamo stati là evidentemente con i nostri prodotti italiani ma soprattutto siciliani sono andati fuori di testa perché gli sono piaciuti tantissimo. Quindi questo progetto è nato per altre future consulenze. Quindi noi dobbiamo sicuramente ritornarci e che dire, viva la Sicilia, viva Villa Abate. Non mi immaginavo questa bella riunione che mi avevano organizzato a Villa Abate e posso dire che sono felicissimo e onorato di essere villabbatese soprattutto. Dove sono stato, mi hanno accolto bene, la città mi ha accolto bene e ho dato il mio cuore. Il mio cuore, perché il mio cuore? Perché sono state veramente delle persone che mi hanno dato veramente il rispetto, cordialità ma soprattutto la mia presenza là è stata bella per i ragazzi che mi hanno accolto bene. All'amministrazione comunale di Villa Abate ci teneva tantissimo a premiare uno dei suoi figli migliori. Veramente un'eccellenza nell'ambito della pizza e della cucina siciliana nel mondo. Infatti Lorenzo è veramente l'ambasciatore della pizza e della cucina siciliana e la sua esperienza in Kazakistan lo dimostra. Ma non è solo la sua professionalità, è anche il suo carattere, il suo amore per questo lavoro che è una passione. E quindi l'amministrazione comunale ci teneva veramente a ringraziare Lorenzo e a dargli una targa ma regalargli questa giornata che possa veramente portare con sé nel cuore e dovunque lui porti l'esperienza, la sua esperienza di pizzaiolo nel mondo. Un grande omaggio a Salvatore Sciarrino in occasione dei suoi 70 anni dal teatro della sua città, il Teatro Massimo di Palermo. Quattro giorni che si concludono oggi con la prima rappresentazione italiana dell'opera Superflumina nel nuovo allestimento del Teatro Massimo, direttore Tito Ceccherini. Dopo l'esecuzione dell'integrale per flauto prosegue il grande omaggio a Salvatore Sciarrino in occasione dei suoi 70 anni nel Teatro Massimo di Palermo, il teatro della sua città. Venerdì 3 novembre alle 20 e 30 e sabato 4 novembre sempre alle 20 e 30 prima rappresentazione italiana dell'opera Superflumina. Nel nuovo allestimento del Teatro Massimo direttore Tito Ceccherini, regia, scene, costumi, Raphael R. Villa Lobos, orchestra e coro del Teatro Massimo. Un allestimento che esplora le possibilità visuali e acustiche del Massimo. L'azione si svolge anche in platea dove sono state rimosse le poltrone mentre il coro sta sul palcoscenico e il pubblico si affaccia dei palchi. Un grande omaggio a uno dei più grandi compositori del nostro tempo che qui a Palermo è nato, dice il sovrintendente Francesco Giambrone e ha portato il suo talento e la sua musica in tutto il mondo. E inoltre un altro segnale dell'interesse del Teatro Massimo per i nuovi linguaggi è la musica del nostro tempo. La donna protagonista dell'opera è Valentina Colladonato, una giovane, voce lontana e Riccardo, Angelo Strano, un passante, un poliziotto è Salvatore Grigoli, altoparlante femminile Antonella Infantino, altoparlante maschile Alberto Cavallotti ed Ernesto Marciante. L'opera, il cui titolo è tratto dal salmo biblico 136-137, composta su commissione del National Elder di Manheim nel 2010 ed eseguita per la prima volta il 20 maggio 2011 nello stesso teatro, è una riflessione sull'emarginazione e la solitudine umana ispirata al romanzo autobiografico by Grand Central Station I Sat Down and Wept, pubblicato nel 1945 dalla scrittrice canaglese Elizabeth Smart, un grido di dolore e di amore riferito alla sua travagliata e contrastata relazione adulterina con il poeta inglese George Baker da cui ebbe quattro figli. Una donna sola e nel romanzo incinta si aggira in una grande stazione attendendo un uomo mentre i passanti la scansano e la insultano e gli annunci degli altoparlanti, realmente registrati nelle stazioni tra il 2003 e il 2006, annunciano ritardi e guasti. La donna incontra un altro disperato come lei ma i due dopo essersi avvicinati vanno ognuno per la propria strada e anche un poliziotto la maltratta interrogandola senza compassione. Lei canta tre canzoni che descrivono la ricerca del cibo nella spazzatura, il sonno tra i cartoni e le bottiglie che rotolano, parassiti e il disprezzo che gli emarginati subiscono quotidianamente. All'alba è ancora sola e continua a invocare l'uomo che è atteso in vano. La solitudine, scrive Sciarrino, non è che la superficie dell'abbandono, esso provoca ferite ben più profonde, invisibili di cui si sono perse le tracce. Il loro grido può risvegliarsi tragicamente in ciascuno di noi, in qualsiasi momento. Da sempre mendicanti e vagabondi fanno parte del paesaggio urbano, la storia della pittura anzi li ostenta in primo piano. Oggi fingiamo di non vederli, eppure sono dappertutto. Sulle rive delle strade, in centro o in periferia, ai giardini che rappresentano un simbolo distillato dell'ordine cosmico, proprio quello che la semplice presenza di un essere degradato mette in discussione. La certezza della deriva del disastro universale che questi naufraghi incarnano ai nostri occhi è ciò che irrita di più e ne rende odioso il contatto. Non ci accusano piuttosto, azzerano la nostra umanità in quanto messaggeri della verità. Sport. La Eagle Basket torna a vincere nell'infrasettimanale di Alcamo. È pronta ad ospitare la Basket School Messina in un altro scontro diretto al pala dalla chiesa di Bagheria. L'ultima fermata di una corsa non stop che chiuderà la settimana con la terza partita nello spazio di sette giorni. La Eagles Basket, tornata a vincere nell'infrasettimanale di Alcamo, è pronta ad ospitare la Basket School Messina in un altro scontro diretto al pala dalla chiesa di Bagheria. Fondamentale per l'equilibrio psicologico del gruppo Biancorone, Rosso, allenato da Priulla, aver rimediato prontamente alla sconfitta interna con l'Alfa Catania, cogliendo la prima vittoria esterna mercoledì contro la Libertas. Aver vinto ad Alcamo è stato davvero importante per la squadra, ha commentato il centro sloveno Marco Vranicovic. Questo ci ha permesso di mantenerci mentalmente forti e di accrescere una mentalità che da parte nostra deve essere sempre più vincente. Proprio il lungo sloveno arrivato in Biancorosso quest'anno si è dimostrato un fattore nelle recenti uscite, sin dal punto di vista offensivo sia da quello difensivo. Ogni partita che giochiamo mi sento sempre più a mio agio qui, prosegue Vranicovic questo grazie al fatto che conosco sempre di più i movimenti dei miei compagni ed è più facile per me servirli con Assis nel momento giusto. Basket School Messina che arriverà a bagheria forte del secondo posto solitario a quota 8 punti, due in più dei palermitani e reduci dalla bella vittoria in casa contro Ragusa. Un avversario duttile, quello allenato dal coach Francesco Romeo che ha nel centro Daniel Hendrich 21 punti di media sin qui e nell'esperto capitano Claudio Cavaliere le principali bocche di fuoco. Dovremo cominciare subito molto aggressivi e provare ad esserlo dall'inizio alla fine del match, conclude Vranicovic. Molto importante sarà controllare i rimbalzi e giocare una palla a canestro di squadra. Palla 2 di quella che si preannuncia una sfida equilibrata ed emozionante, domenica 5 novembre alle 18 al Pala dalla Chiesa di Bagheria con ingresso gratuito che sarà alzata da Marco Attard e Gianluca De Cillis, entrambi di Priolo Gargallo. E dopo lo sport è davvero tutto, vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana.